Diciamo che questo percorso programmatico Genova Futura che abbiamo deciso quindi di lanciare, partire anche un po' per tempo a stilare il nostro programma per le prossime amministrative genovesi riguarda soprattutto anche i giovani, quindi la prossima tappa, la tappa di domani, la dedichiamo proprio a loro. E lo facciamo anche in un'ottica propositiva, nel senso che vogliamo parlare proprio di formazione, di università, di ricerca ma anche di nuove opportunità di lavoro. Ed essendo che comunque la Liguria e Genova rimangono una terra di grandi industrie, dove le quali viene fatto anche della ricerca a livelli elevati comunque di qualità, allora vogliamo naturalmente mettere a sistema tutte le opportunità che possiamo avere sul territorio per una volta e ragionare proprio in un'ottica di formazione di futuro per i giovani. Perché se noi poi parliamo di Genova Futura naturalmente lo dobbiamo fare partendo dai giovani, questo è assolutamente in dubbio. E poi c'è il tema che riguarda anche l'industria, riguarda il lavoro, perché in effetti Canessa si crea poi quel dualismo tra lavoro, industria, tra turismo. In questa città si è vissuto per anni di indossa, pensiamo all'Exilva, quindi al polo siderurgico di Genova Cornigliano. Probabilmente anche in questo senso il PD ha bisogno di essere più chiaro rispetto al futuro più industriale, più turistico o possono andare insieme? No, noi crediamo in realtà che possono andare insieme. Naturalmente un'economia, una città che ha anche una vocazione turistica, poi non può vivere soltanto di turismo, soprattutto una città come Genova. Quindi le due cose, sia l'industria, l'economia, le imprese, devono andare di pari passo insieme naturalmente all'aspetto turistico. Infatti noi partiamo, quindi abbiamo detto che domani parleremo di industria e di giovani, ma poi dedicheremo anche l'ultima tappa della conferenza programmatica, dell'avvicinamento e quindi di preparazione della conferenza programmatica, la dedicheremo infatti anche al turismo, alla cultura e ai servizi in generale. Quindi questo è il nostro obiettivo, noi pensiamo che Genova abbia la possibilità di sviluppare tutte le sue peculiarità e le sue eccellenze, che quindi vanno dall'industria al turismo, ma lo dobbiamo fare naturalmente partendo e ragionando con la città, con le persone e soprattutto con i cittadini, perché noi in questo momento abbiamo deciso proprio di iniziare un dialogo, perché dobbiamo discutere in maniera propositiva. Ecco, questo è sicuramente il dubbio. Allora mi allaccio a questo per chiederle cosa è mancato in questi anni al Partito Democratico. Questo è un discorso che secondo me esula ed esce anche dai confini genovesi, Liguri, ma può essere esteso a tutta l'Italia. Il PD ha perso molto in questi anni. Dove è stato? Qual è stato l'errore, quel disincastro con la cittadinanza? L'errore è stato quello di non mettersi in dubbio da subito, cioè di iniziare a parlare e a discutere in maniera aperta con tutti i soggetti che interessano e che hanno interesse quindi a sviluppare una città e comunque il benessere della città e dei propri cittadini. Sono mancati dei momenti. Infatti noi dopo le ultime amministrative genovesi abbiamo deciso di rimetterci in campo, di partire per tempo per creare proprio uno spazio, un momento, un agora di discussione. È lì perché nel momento in cui tu vuoi fare delle proposte naturalmente tu devi parlare con tutti il più possibile e capire esattamente dove vai a incidere quando tu fai una politica e proponi anche un'azione politica. Quindi è necessario avere sempre la visualizzazione e il visuale di tutto quello che interessa una città. Grazie, grazie a Vittoria Canessa. Ricordiamo l'appuntamento di domani perché sarà una mattinata aperta anche al dialogo in un percorso a tappe che il PD ha deciso di portare avanti. Esatto, quindi aspettiamo tutti domani alle 9.30 lo spazio Space for Business che si trova in Viale Brigata e Bisagno numero 2. A partire dalle 9.30 è aperto a tutta la cittadinanza. Successivamente il 9 marzo avremo l'ultimo appuntamento Genova Attrattiva e poi tutti il 13 e il 14 aprile per la due giorni finale che si terrà la sala della chiamata della Compagnia Unica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.